Continua la striscia di sconfitte per Rimini e Romagna nel beach soccer. Ad aprire le danze della Coppa Italia i biancorossi che hanno perso 6-3 contro il Brescia. Il turno preliminare quindi non ha invertito il 3 negativo che coinvolge la formazione neopromossa. In campionato infatti è l'unica rosa ancora secco di vittorie. A pesare sul bilancio dell'incontro le innumerevoli assenze, basti pensare che tra i palli è stato schierato il quarto portiere. Stessa sorte nel trofeo tricolore per il Romagna. Contro Canalicchio matura un KO che sa di beffa. Infatti i verdi hanno sempre condotto il match ma sono andati sul riposo sul 2-2. A nulla è servito infatti l'Euro goal in rovesciata di Papa. Nella ripresa addirittura sono state due le reti di vantaggio ma c'è stato un crollo verticale ed i siciliani hanno recuperato anche sul 6-4. Miracolosa infatti è risultata la remuntata dei catanesi sul 7-6 finale grazie dell'azione solitare di Rafinha che ha strappato il pass per il turno successivo di Coppa alla Romagna.